dopo tre anni ti si taglia la mamma però la mamma non la taglia mai se tu non la taglia mai però non la taglia mai e rimane sempre cucina tutti gli anni ma poi mi dà fastidio oh eccoci franci dovresti rispiegare meglio questo per ma perché parla loro la per baglie che è è la figlia della ciocca è la figlia della ciocca ok perfetto con questo chiudiamo